Faisal, sono stato il primo, tra l'altro ti è curiosità di intervistarti qui a Nocera, di intervistare in inglese, questa volta forse la facciamo in italiano. Com'è stato il tuo impatto in questo ritorno a Nocera? No, sono contento di tornare qua a Nocera, la prima volta che ho venuto qua mi piace tanto, e speriamo che questo anno facciamo bene, dai. Come ti stai trovando con i compagni, soprattutto con i compagni di reparto? Oggi è giocato nell'attacco a tre, qual è la tua impressione? No, abbiamo una squadra fortissima, questo anno vogliamo vincere il campionato, speriamo che adesso lavoriamo tanto all'allelamento e speriamo che arriviamo al campionato fresco, tutto fresco e bene per andare a vincere. Domenica prima gara ufficiale, come ti senti e come ti state preparando? No, mi sento bene, un po' stanco perché ho lavorato con il prof tanto, con la squadra lavoriamo tanto all'allelamento, però speriamo che iniziamo tutto bene. Grazie. Grazie. Grazie.